Il Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo ha attivato un presidio per il soccorso acquatico e di superficie operativo sul litorale della provincia di Teramo. Un servizio reso possibile grazie ad una convenzione stipulata lo scorso 19 luglio tra Prefettura, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, Provincia e Guardia Costiera. Abbiamo rinforzato la presenza dei Vigili del Fuoco sperando ovviamente che non ce ne sia bisogno e quindi per tutto il mese di agosto e l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di settembre abbiamo questo potenziamento del soccorso acquatico da parte dei nostri grandissimi e insostituibili Vigili del Fuoco che non finiremo mai di ringraziare per quello che fanno tutto l'anno, per tutte le cose che fanno, incendi, alluvioni, loro ci sono sempre. In particolare saranno 16 le giornate di attivazione del servizio. Opereranno nelle giornate festive, prefestive, fine settimana, due unità Vigili del Fuoco con imbarcazioni di tipo veloce per il soccorso a persona, tipo moto d'acqua o gommoni e stazioneranno su due posizioni alternativamente come posizione posto di comando avanzato utilizzano una base messa a disposizione dal comune di Tortoreto e l'altra base che è il centro polifunzionale dei Vigili del Fuoco sul Roseto. Nel presidio saranno dislocati mezzi nautici, attrezzature ed idoni sistemi di comunicazione necessari per l'attivazione di soccorso in mare. Le moto d'acqua hanno una capacità di intervento a ridosso della costa, a ridosso delle scogliere che sono fondamentali sia per la velocità di intervento sia per le zone che possono raggiungere. Quindi un servizio aggiuntivo nell'ambito delle risorse SAR rassegnate ma un servizio preziosissimo grazie a questo contributo importante dei Vigili del Fuoco, della Prefettura e della provincia. Un presidio che permetterà di aumentare la sicurezza per i tanti turisti che stanno affollando la costa terramana. Servizio molto importante che fa aumentare anche la percezione della sicurezza sulla costa terramana, una sicurezza per i bagnanti, per i turisti, per garantire e migliorare quello che è l'offerta turistica di tutta la costa. Quest'anno i numeri sono stati importanti e noi puntiamo a fare sempre di più e sempre meglio.